Numero 5. L'isola relax con piattaforme galleggianti è il must have per un'estate indimenticabile. Con una capacità di 540 kg può ospitare comodamente fino a 6 persone e rendere ogni momento al sole ancora più speciale. Grazie ai 6 portabicchieri e al parasole staccabile, potrai godere di un comfort completo. Con l'isola relax, l'estate sarà divertente e rilassante. Ottimo rapporto qualità prezzo. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 4. L'isola galleggiante è un must per tutti gli amanti dell'acqua, pensata per rendere più facile e divertente il tempo passato in acqua. Realizzata con materiali di alta qualità, come il PVC resistente e antiscivolo, è perfetta per le attività di relax e di sport acquatici. La sua struttura a trave elicoidale garantisce una perfetta stabilità e un sonno sano, adattandosi al corpo in modo confortevole. Grazie agli anelli di ancoraggio, può essere facilmente fissato alla barca. Con la sua versatilità, è ideale per praticare yoga, prendere il sole o semplicemente godersi il tramonto. Ideale anche per stabilimenti balneari. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 3. L'isola galleggiante gonfiabile è l'accessorio perfetto per un'estate di divertimento sull'acqua. Costruita con materiali di alta qualità e resistente PVC, garantisce una durata senza pari. Con una grande capacità di carico può facilmente ospitare fino a 5 persone. Dotata di comodi schienali per il relax e una rete sul fondo per mantenere freschi gli utenti. La tecnologia gonfiabile militare rende questa isola relax non solo stabile ma anche facile da trasportare e riporre. Ottimo articolo. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 2. La nuova ed innovativa isola galleggiante gonfiabile è la soluzione ideale per chi cerca un'attività rilassante e divertente in acqua. Realizzata con materiali di alta qualità e testata per resistere alla prova del tempo, questa isola offre una superficie spaziosa e una grande capacità portante. Grazie alle sue applicazioni Infinite, è perfetto sia per le attività sportive, come il kayak e il paddleboard, che per il relax con amici e familiari in piscina o al lago. Con una comoda pompa manuale, una borsa per il trasporto e altri accessori inclusi, è facile da trasportare e utilizzare ovunque tu voglia. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 1. Isola galleggiante gonfiabile, il modo perfetto per rilassarsi sull'acqua. Realizzata con materiali di alta qualità come il tessuto spazzolato in PVC spesso e con cuciture doppie rinforzate, garantisce durevolezza e sicurezza per adulti e bambini. Con le sue maniglie per il trasporto e gli anelli in acciaio inossidabile, è facile da fissare a qualsiasi molo, barca o ancora. Inoltre, grazie alla sua pompa manuale inclusa, è facile da gonfiare e da ripiegare, occupando poco spazio quando non in uso. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Inoltre, grazie a tutti.